Accusato di violenza sessuale nei confronti di una minorenne, oggi la sentenza che lo assolve in formula piena perché il fatto non sussiste. Per Don Gianni Baccega, 83 anni, la fine di un incubo. Per i sacerdote sono stati anni di angoscia e dolore, seppur la fede non lo abbia mai abbandonato, come ci racconta, visibilmente commosso e sollevato. Ha dovuto rinunciare a molto nei quattro anni in cui si è svolto il processo. E' stato anche un po' duro perché per la comunicazione della Santa Sede io non ho più potuto celebrare la messa in parrocchia e ne confessare. E quindi in questi quattro anni, qui in casa. Tanto dolore c'è stato. Doloroso sì, perché veniva a togliermi ciò che è di più bello, la del mio sacerdote. I fatti risalgono al 2008, quando Don Gianni, originario di Fontanive e per 11 anni prete a Gazzo Padovano, era parroco in un paese del Vicentino. Qui aveva conosciuto una famiglia, madre, due ragazzine dell'Europa dell'Est e il patrigno un Vicentino. Le adolescenti erano solite frequentare la casa del loro prete e padre spirituale. Un giorno, racconta il religioso, la più grande delle sorelle ha chiesto di essere confessata. Lì l'ho confessata in quattro minuti. Ecco, poi al termine, avevano questa benevolenza, diciamo, per riconoscenza. Mi è venuta incontro, mi ha dato un bacio alla guancia. E dando un bacio alla guancia, io ho messo la mano destra, lì dietro le spalle, così, e l'ho accalciato due volte dietro le spalle, così, no. E questa cosa, si vede che lei non l'ha gradita tanto, l'ha comunicato a sua mamma e per questa cosa sono stato accusato. In realtà la denuncia è scattata sei anni dopo l'episodio, nel 2014, uno shock per Don Gianni, sollevato dal vescovo addirittura da qualsiasi attività sacerdotale. Che cosa le resta di questa brutta storia? Ma mi resta, da una parte, un dolore che non avevo mai provato, però anche mi pareva come che il Signore mi desse questa prova, questa sofferenza, ecco, prima di chiamarmi in cielo. Quando ha saputo che era stato assolto, cosa ha provato? È stato un libro, io non pensavo perché ero in questa anche fede, diciamo, no. È una gioia indescrivibile, ecco, e per un momento ho pianto da solo. Lei perdona queste ragazze, queste persone? Certo, certo, certo. Io sentivo che le perdonavo pienamente e le mettevo nelle mani di Dio.